weee non fare il magazzino muffito da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! oee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono XIUDER devo vedere se mi state sentendo oppure no sì perfetto oggi ragazzi vedremo la stella segreta della settimana numero 7 quella che praticamente sbloccate non appena liberate non appena appunto sbloccate la schermata di caricamento della sfida appena uscita per trovarla è semplicissimo basta andare nel Taco Bell come vedete entriamo da qua dove c'è la macchina viola giriamo e la stella segreta ragazzi si troverà proprio in questo punto in mezzo alle panche io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live su twitch alle 23 15 ciao ciao